Ciao a tutti e ciao a tutti, siamo qui in un posto storico di Torino, siamo qui per darvi una comunicazione importantissima per dirvi che il 7 ottobre al bunker si terrà un concerto dove si esibiranno 5 band storiche del panorama musicale dove l'impero troico andrà devoluto alla cassa resistenza dei riders, una cassa resistenza che è nata per un'esigenza un'esigenza di portare sostegno ai riders perché ricordiamoci tutti quanti che dietro a un telefonino quando ordiniamo i nostri panini, le nostre pizze c'è una persona, c'è una donna e c'è un uomo che lavora, perché questo è un lavoro e quello che noi vogliamo dimostrare con il concerto del 7 ottobre è proprio questo, che dietro i nostri fantastici smartphone c'è una persona che lavora e va quindi considerata come tale ecco perché vi aspettiamo tutti quanti il 7 ottobre al bunker a partire dalle 18 si esibiranno diversi gruppi come i partelli di sole, data, di rimozione, medusa, gli Arcoto Project e tanti altri gruppi quindi vi aspettiamo numerosi grazie grazie